Gli slime su Minecraft possono essere di diverso genere, lo sapevate? La leggenda degli slime narra che quando la mezzanotte scocca e il tempo non passa più su Minecraft, allora, proprio qui, ci saranno gli avvenimenti più oscuri. Sono alla caccia di questi slime maledetti. Camminando e girandomi intorno sentivo un'atmosfera troppo vuota. Prima si era sentito quel rumore e vi faccio notare una cosa, è notte giusto? E allora, perché non spuna nemmeno uno scheletro, nemmeno un creeper, niente, zero. È tutto vuoto, tutto buio, tutto calmo, fin troppo calmo. Ho preso la mia barchetta. Allora, questa tecnicamente dovrebbe essere la casa della strega. Ok, c'è il gatto, ma purtroppo non c'è la strega. Cioè, purtroppo, per fortuna. Sono uscito di casa e praticamente c'era uno di questi slime che era lava, l'ho visto a malapena, e praticamente poi è andato nell'acqua ed è diventato tipo ossidiana. Tecnicamente questi sono gli slime mutaforma. E io voglio capire un attimo che cosa fa questo slime. Allora, dobbiamo farci colpire, giusto per l'esperimento scientifico, perché... Eh no, fa brutto male, molto male. Perché, ok, questo non è normale, purtroppo. Purtroppo questo non è normale, è veramente brutto. Poi questo slime non muore, eppure gli sto facendo un sacco di danno, raga. Guardate, cioè, questa ascia fa nove di danno, anche se di pietra. Ricordatevi che è più forte nella sua forma completa della spada in nederite, per farvi capire. Quindi, cavolo. Vedete, gli sto facendo anche il danno critico, ma niente. Ok? Non mettervi mai contro uno di questi se lo incontrate, mai. Tecnicamente dovrebbe essere un mondo normale di Minecraft, questo. Siccome questo è Minecraft vanilla, e vedo che comunque la luna è sempre lì al centro, io non vorrei dire. Però, secondo me, questo Minecraft non è propriamente vanilla, nel senso che è tipo mezzo maledetto. Cioè, non è il Minecraft normale questo, perché sappiamo bene che Minecraft normale il tempo passa. Ora, vediamo un attimo se è solamente una mia percezione per via dello spavento, magari che cavolo ne so. Oppure, magari è veramente che non passa il tempo, perché tecnicamente dovrebbe passare. Ora, se io dormo, dovrebbe succedere qualcosa, giusto? Eh, no. Non succede niente. Ma, che caspita! Ok, avevo sentito un rumore. Praticamente questo slime, io credo che possa farti degli agguati. Eccolo. Invisualizzandosi. Cioè, tipo, diventa invisibile. Scusatemi, però io sono veramente agitato e ho paura di ciò che potrebbe succedere. Ma io, infatti, me ne sto per scappare. Non mi interessa. E il letto, ovviamente, non lo prendiamo, perché tanto è inutile se qua non diventa giorno. No. No.